buongiorno ben ritrovati cari telespettatori di fano tv questa è la resegna stampa occhio ai giornali siamo in diretta 7 30 del mattino buongiorno anche a coloro che ci seguono in replica sul sito internet on demand insomma sul canale 17 buongiorno a tutti cominciamo dal santo di oggi la chiesa cattolica oggi ricorda la beata elisabetta della trinità il sole è sorto alle 6 55 tramonterà alle 16 49 allora guardiamo subito il tempo oggi la protezione civile delle marche prevede cielo irregolarmente nuvoloso la primo mattino con diminuzione della copertura e nuovo aumento però nel tardo pomeriggio quindi migliorerà un po e poi di nuovo nuvole poi ancora rovesci nelle prime ore della giornata in particolare lungo la costa in serata rovesci sparsi ora lungo la costa credo che ormai abbiamo già dato adesso attendiamoci rovesci sparsi eventualmente durante la serata per quanto riguarda la giornata di oggi le temperature sono già in diminuzione in particolare nei valori minimi per la giornata di domani giovedì 10 di novembre ecco la situazione con la grafica sulla destra inizialmente nuvoloso domani mattina con schiarite già dalla mattinata e cielo poco parzialmente nuvoloso avremo ancora residui rovesci quelli della notte dunque nelle prime ore di domani mattina in particolare lungo la costa le temperature sono in lieve aumento poi attenzione guardate venerdì 11 venerdì 11 torna il cattivo tempo anche anche vento forte raffiche fino a vento forte lungo la fascia costiera i venti rotteranno da nord est in serata dunque le temperature saranno in lieve diminuzione le massime mentre in lieve aumento saranno le minime ma avremo la neve attenzione sopra i mille metri quindi anche lungo gli apennini e purtroppo anche nelle zone dei sibillini tutta la parte giù che conosciamo bene essere terremotata e dunque avrà il freddo e avrà anche la neve miglioramento invece per la giornata di sabato ancora instabilità per le giornate di domenica e lunedì seguite da un da un miglioramento allora mentre noi siamo qui a parlare dall'altra parte del mondo sta cambiando tutto sta cambiando il mondo sta cambiando il mondo con donald trump che sta vincendo sta vincendo sta diventando praticamente quello che per chi ci segue a luna e mezza per esempio sarà per tutti ormai il nuovo presidente degli stati uniti d'america insomma staremo a vedere ma il mondo sta veramente cambiando e non so che cosa accadrà nessun giudizio andremo semplicemente staremo a vedere l'america però gli americani soprattutto hanno deciso di cambiare questo è certo andiamo e torniamo ai fatti di casa nostra vediamo il sito occhio notizia punto it che in apertura l'apertura la dedica alla scomparsa a 92 anni di maria castellini da tutti conosciuta come la maria dei fiori eccola qua l'abbiamo ricordata ieri sera nel telegiornale lo facciamo anche nella nella rassegna stampa di questa mattina anche perché la notizia sui giornali c'è solo un piccolo trafiletto sul corriere adriatico probabilmente ci si ritornerà su questo addio alla maria dei fiori gestiva un chiosco al pincio andiamo a vedere adesso invece giornali cominciamo dal corriere adriatico l'influenza ancora non è arrivata arriverà colpirà come come sempre sono in arrivo i vaccini da venerdì si comincia però attenzione secondo quanto scrive il collega adriatico nonostante l'influenza c'è questa fuga dai vaccini medici fanno i testimonial si fanno vaccinare si riprendono con il telefonino mentre si fanno vaccinare come dire se lo facciamo noi fatelo anche voi non c'è nulla da temere sull'ospedale invece a fosso sei ora out out di ceriscioli ai sindaci di pesaro e fanno lo vedremo tra poco banca marca invece in ubibanca stavolta è fatta la bce allenta nel 2016 dalle good bank prodotti altri 4 miliardi di crediti inesigibili andiamo adesso sulle pagine interne dicevamo dei vaccini facciamo vedere le due pagine le apriamo tutte e due contemporaneamente eccole qua allora una e due sono le due pagine del corio adriatico pagina 2 pagina 3 in influenza fuga dei vaccini dicevamo quest'inverno previsti due nuovi ceppi sono state ordinate 50 mila dosi di vaccino contro l'influenza i medici danno il buon esempio area vasta campagna di sensibilizzazione soprattutto i soggetti a rischio ma la metà purtroppo ha deciso di rinunciare l'argomento è molto critico ci sono tante teorie ma essere coperti significa anche risparmiare nelle cure e soprattutto quello che ribadisco ancora una volta sulla questione dei vaccini e quant'altro non affidatevi a facebook facebook non è la verità non pretendete di trovare da facebook o dai social network l'informazione se non è certificata se non è quella scritta e certificata da siti che più o meno sono quelli che gestiscono l'informazione a livello nazionale un conto se lo scrive il Corriere della Sera un conto se lo scrive attivo.it che non ha senso non è un sito di informazione credibile perlomeno ecco questo vale per tutto non solo per la sanità non solo per i vaccini ma addirittura ieri notavo tanto per farvi capire come purtroppo ci sono anche quelli che ci giocano su queste notizie ad effetto tre anni di galera per chi pubblica qualcosa su facebook poi vai a vedere il sito è il fatto quotidiano sembrava il fatto quotidiano ma con una lettera in più come dire l'occhio pare sembra che sia il fatto quotidiano che comunque un quotidiano nazionale in realtà non è così quindi c'è l'intenzione di trarre in inganno quindi attenzione ci sono tante trappole su facebook per quanto riguarda l'informazione fidatevi solo di quelli sicuri di quelli che sono noti conosciuti parcheggi andiamo velocemente i titoli parcheggi la confcommercio non c'è dei parcheggi a pagamento a pesaro è un dibattito acceso quello dei pagamenti dei parcheggi delle strisce blu tornano però i buoni sosta per lo shopping l'unica soluzione per aiutare i ristoratori di abolire il ticket nella fascia della pausa pranzo praticamente quella che va dalle 13 alle 15 dice il paso parco urbano invece all'ex amga briglia ribadisce il no alla realizzazione della terza torre nell'area bonificata siamo sempre pesaro non costruiremo nulla ma l'iter sarà di competenza del consiglio comunale da urbino le scosse spaventano i turisti c'è un scappano tutti disdette calo di prenotazioni degli alberghi confesar centi dice serve una campagna per spiegare che qui siamo al sicuro insomma sì siamo al sicuro ma un po azzardato secondo me poi da urbana giuseppe galeotti lo vedete in questa fotografia ce ne siamo occupati anche nel telegiornale è scomparso nel nulla ricerca ad urbana ma del pensionato ancora di questo 77enne sparito dalla circolazione da domenica pomeriggio anche ieri non c'è più notizia non c'è più traccia sono continuate le ricerche da parte dei carabinieri dei vigili del fuoco però non per il momento non si sa nulla di lui sempre da urbino la cronaca delitto lulli ismaele lulli si torna in assise il duello sarà tra i consulenti a pesaro la quarta udienza sul banco degli imputati ci sono igli meta e mario memma mentre il corriere pubblica la foto di della mamma debora la mamma di ismaele lulli in aula la quale continua a ribadire devono pagare per il male che hanno fatto a mio figlio la pagina di fanno invece eccola qui sui giardini o meglio sulla sull'area dell'ex agip dove c'era una volta il distributore adesso avete visto passandoci chi ci passa avrà visto che lì adesso non c'è più nulla il distributore è sparito non c'è più è stato demolito che cosa farci in quella zona che sia che praticamente a due passi vedete qua si intravede tanto per farvi capire dove che punto siamo vedete il campanile di san pateniano quindi siamo a due passi dal centro o un giardino oppure una fontana una fontana così come era una volta no la vedete qui questa è una foto d'epoca in quel punto dove un tempo c'era il distributore non servono nuovi parcheggi l'area è stata recintata gli ambientalisti e gli architetti indicano una rinascita strategica venturelli la corridone è un capolavoro e va ripristinato il progetto integrale del 1935 sulla fusione dell'aset botte risposta tra bacchiocchi del pd e 5 stelle i 5 stelle dicono cose inesatte sono 4 milioni risparmiati bacchiocchi dice nella loro analisi solo ipotesi fantasiosi veleni e disinformazione dalla pagina di fanno ancora del corredo adriatico santorso prigioniero dei vandali sale la paura tra i residenti danni a ripetizione gli abitanti del quartiere sono stremati a cucurano tagliano le gomme a un'automobile insomma è un po' così un po' così un po' così installate invece in viale primo maggio la nuova telecamera ora tutto il viale è sotto controllo un nuovo occhio elettronico è stato installato dunque da una ditta per tenere sotto controllo le targhe delle macchine perché l'apparecchio che è stato installato come scrive il corredo adriatico ha un sistema di lettura delle targhe per rilevare in pochi secondi le informazioni sui mezzi che passano lì sotto l'occhio vigile della telecamera delle telecamere poi sul carnevale 30 mila euro a carro e il getto non sarà più un costo dice maria flora gian marioli che è la presidente dell'ente carnevalesca che svela la macchina organizzativa il tema sarà il made in italy non vogliamo fare una festicciola da 400 mila euro dice ancora l'intento è di investire sulla città di spalla invece il cb club mattei saveri olivi saveri olivi nel consiglio nazionale conferma nella firra per il presidente saveri olivi lo vedete nella fotografia ed ecco sotto invece la notizia della morte di maria castellini era la donna dei fiori aveva gestito per oltre 40 anni il chiosco al pincio dalla valle del cesano scuole sicure lavoreremo ancora una task force valuterà ogni rischio a mondolfo il sindaco nicola barbieri ha illustrato l'esito dei controlli e la strategia per i prossimi 120 giorni ieri i volontari della corce rossa sono stati ricevuti in consiglio comunale poi sotto ancora sulle pagine della valle del cesano i cannoni separati ora sparano solo amicizia sono stati restaurati dagli alpini siamo a san giorgio di pesaro uno è tornato in paese l'altro è rimasto nel vicentino da senigallia adesso chi difende i cittadini si parla tanto dopo la sentenza dell'appuntato dei carabinieri che è stato condannato per aver sparato ad un ad un ladro il colpo di pistola di rimbalzo ha ucciso un bandito l'avvocato scaloni dice ladri e rapinatori più spregiudicati se le forze dell'ordine sparano in aria sanno che tanto spareranno in aria e dunque non temono nulla la perizia ha stabilito che quei colpi erano indirizzati alle gomme del suv in fuga sul quale c'era anche la vittima da pesaro e provincia siamo a monte maggiore al metauro fusione appello al sì dei tre sindaci comuni uniti in silma lo ha dimostrato lo dimostra scuole trasferite per precauzione ma subito ospitate all'interno della futura colli al metauro dando quindi per scontato che i cittadini di monte maggiore al metauro saltare serungarina domenica prossima voteranno e diranno sì a questa fusione quindi nascerà questo nuovo comune che tra l'altro avrà la sede a calcinelli perché baricentrico rispetto ai tre paesi interessate questa fusione e dunque nascerà e hanno dato per scontato che domenica vincerà appunto la volontà di unirsi e di fare forza comune andiamo adesso velocemente sul resto del carlino la pagina principale ecco il titolo ex amga congelata la bonifica non è finita ancora l'area è in degrado i residenti spazientiti si aspettano il promesso giardino poi questa è la notizia principale da fano invece ruote squarciate chissà parli la denuncia è di un residente di cucurano indaga la polizia l'appello è di marco barcellieri 33enne torinese ma di origine ma residente a cucurano di fano che domenica mattina si è ritrovato squarciate tutte e quattro le gomme dell'auto lasciata parcheggiata la sera prima sotto sotto casa poi sempre dal resto del carlino canile l'autopsia non risolve tutti i problemi esclusa l'iniziale ipotesi di leptospirosi ma servirà comunque un piano di prevenzione l'epopea del commercialista a new york è stata durissima dice ma ce l'ho fatta regnier taglia il traguardo della maratona in 4 ore e 56 minuti al chilometro 31 racconta il commercialista mi sono venuti i crampi al polpaccio mi sono fermato 19 volte i sindaci in trincea uniti o impoveriti fusione colli al metauro appello degli amministratori in vista del referendum non basta un generico richiamo all'identità per spingere il no ceriscioli ceriscioli scrive ai due sindaci fosso sei ore voto entro 30 giorni ospedale unico il presidente rimanda la palla ai due comuni esprimetevi adesso sono stanco di aspettare l'assemblea non l'ha detto lui lo scrive il carlino stanco di aspettare l'assemblea dell'area vasta non viene convocata e così la regione va per la sua strada il sindaco di pesaro voleva il via libera muraglia quello di fano è rimasto invece sulle posizioni espresse già da tempo ovvero chiaruccia poi l'appello dell'asur vaccinatevi l'influenza può anche portare alla morte parte venerdì la campagna di prevenzione gratuita nei distretti dei medici di base la tendenza è chiaramente da ribaltare perché si parte solo dal 48,69 per cento della popolazione a rischio pesaro e fanalino di coda per quanto riguarda appunto le vaccinazioni è tutto la rassegna stampa finisce qui vi ricordo che questa sera alle 20 e 30 ci occhio ai giornali vi ricordo anche che le vostre segnalazioni sono per noi molto importanti quindi se avete qualcosa da segnalarci dagli incidenti purtroppo fino alle cose che interessano la vita di tutti i giorni chiamateci oppure scriveteci con whatsapp al 338 4968 250 oppure scaricate l'app su google play o iphone sull'iphone sull'apple store grazie per averci seguito buona giornata grazie per aver guardato il video